Oltre 270 milioni di euro nel 2019 per disabilità, non autosufficienza e vita indipendente. Li ha stanziati la Giunta regionale toscana con quattro delibere approvate a fine 2018 e illustrate dall'assessore al diritto alla salute Stefania Saccardi. Quasi 64 milioni di euro per la non autosufficienza, 9 solo per i progetti di vita indipendente. Adeguate poi le quote sanitarie per l'inserimento degli anziani in RSA che, ha detto Saccardi, saranno a carico del sistema sanitario e poi delle tariffe per i centri di riabilitazione extraospedaliera. Vogliamo andare a togliere le persone con disabilità che oggi sono impropriamente ricoverate nell'RSA per destinarle alle strutture per disabili e dentro ci metto anche tutta la partita che riguarda il dopo di noi sulla quale la regione toscana ha aumentato le risorse in modo considerevole che arrivano dal governo e ci non sentirà nello stesso tempo di liberare qualche centinaio di posti ancora per gli anziani che sono in lista d'attesa per entrare in un RSA. Tra le novità presentate dall'assessore Saccardi, anche l'impiego di 30 milioni del Fondo Sociale Europeo per progetti sulle demenze e sull'assistenza domiciliare e la messa a regime del progetto sperimentale ADA per migliorare le condizioni di vita delle persone con disabilità nella propria abitazione. Grazie 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 Grazie